Ciao ragazzi, nuovo video, oggi video all autunnale sto finalmente facendo shopping per la stagione un po' più fredda come sapete qui a Toronto fa leggermente più freddo leggermente sono un po' più freddo che in Italia quindi mi sono andata a cercare nei negozi giacchine e giacchettine per questa mezza stagione che non fa troppo freddo ma non fare anche troppo caldo da poter uscire così fuori di casa si tratta di robe, di cose di Zara, Bershka cose che avevo comprato prima di partire ma in generale si tratta di cose che ho accumulato inoltre non sono tantissime cose sono un po' di cose ma non sono tantissime perché preferisco magari farvi 1-2 video all al mese con magari 5-6 capi massimo 8 capi perché non voglio far venire video all super lunghi perché penso che la cosa non vi possa interessare comunque bando alle ciance e iniziamo con i video all prima cosa che ho comprato da Zara è questo cappottino super super carino questo qui è un cappottino in come si dice è tipo a metà tra il velluto però non proprio comunque è carinissimo ovviamente vi indosserò i prezzi anche qui non me li ricordo va a mille non me li ricordo i prezzi perché come vi ho detto ho comprato tutto in diversi round comunque sono tutte cose che ho comprato nel ultimo mese quindi dovrebbero essere tutte in negozio e mi piace tantissimo il colore mi piace tanto mi piace il fatto che sia corto quindi sopra i jeans è bellissimo e poi soprattutto sono quei giubbotti che amo mettere magari in ufficio quando c'è l'aria condizionata è abbastanza freddo alle spalle questi sono perfetti e questo è il giubbotto poi sempre da Zara per quanto riguarda diciamo l'inverno sta arrivando tipo e questo cappottino anche qui è un cappottino molto molto semplice anche qui grigio questo qua è proprio un proprio una giacchettina non è una giacchettina è tipo un maglioncino a metà tra una maglia e una giacca non è pesante come una giacca ma non è neanche leggera come un maglioncino leggero ed è molto molto carino di questo colore grigio che posso abbinare su tutto sui miei jeans eccetera eccetera quindi amo amo alla follia anche questo lo utilizzerò tantissimo 100% l'ultima cosa che ho comprato da Zara sono dei pantaloni neri non so come mai ma non avevo dei pantaloni neri nel mio armadio o magari ce li ho a Torino e me li sono dimenticati comunque ho comprato questi pantaloni che in realtà sono non sono bucati cioè qua si hanno un buchino proprio piccolino ma neanche troppo questi qui fanno parte della linea Zara Woman Premium Denim Collection mi piacciono perché sono elastici mi ricordano molto quelli di Topshop di solito ogni estate mi rifornisco di pantaloni di Topshop ma quest'anno non c'erano le mie taglie dove li prendo di solito e quindi ho comprato questi pantaloni di Zara ma devo dire che mi piacciono molto poi da Bershka ho comprato questa tutona che ragazzi io sono ossessionata dalle tute anche qui ovviamente vi metterò la clip perché non capirete niente l'ho pagata pochissimo perché questa me lo ricordo perché talmente l'ho pagata poco che ero tipo mh l'ho pagata 25 euro che per una tuta lunga è pochissimo mi piace perché ha le righe verticali che adesso vanno un sacco di moda e soprattutto mi fanno più alta cosa che è la cosa non mi dispiace visto che sono molto molto bassa mi piace perché nonostante sia lunga non mi arriva a terra quindi non ho dovuto neanche accorciarla e mi piaceva il colore c'era nera e sinceramente ero super tentata a prendere quella nera ma onestamente ho pensato dai Francesca non puoi comprare sempre cose nere quindi sono andata sono andata e ho preso questo verde petrolio barra ottaglio che è molto molto bello quindi ve la consiglio c'è sicuramente da Bershka un'altra cosa che ho provato da Bershka che mi sarebbe piaciuto prendere ma purtroppo non c'era la mia taglia e sono dovuta partire ve lo metto qui è questo blazer anche qui righe verticali stupendo veramente mi sto mangiando le mani che non c'era la mia taglia però il giorno dopo dovevo partire cioè il giorno dopo due giorni dopo dovevo partire quindi non potevo fare niente non potevo comprarlo online non potevo andare a trovarlo da qualche parte tutti i negozi a Torino avevano soldato la mia taglia quindi come si dice la solita fortunata poi un capo che ho preso in un negozio qua che si chiama Dinamite cioè qua non capirete è praticamente questa camicetta bianca è bellissima perché è off shoulder si è nata con le camicette off shoulder e la ragione è perché questa mi piace perché questa veramente mi sta off shoulder cioè sono delle camicette che sono off shoulder però ogni volta che vi muovete tipo salgono no vabbè questa non sta off shoulder però ci sono altre camicette che ho che sono off shoulder però ogni volta mi salgono ed è una noia e stanno malissimo invece questa sta veramente perfetta intatta posso muovermi posso fare ed è fantastica e mi piace perché appunto di questo colore bellissimo bianco anche qui a righe devo sono passata dall'ossessione con i fiori che tra parentesi ho ancora all'ossessione per le righe cioè praticamente passiamo andiamo avanti ad ossessioni e poi l'ultimo capo che ho per questo video è questo giubbottino di jeans anche qui questi giubbottini io li amo da mettere soprattutto per l'ufficio perché posso metterli sopra dei vestiti posso metterli qua per uscire rendono l'office super casual posso metterli cioè praticamente posso metterli un po' in 250 occasioni e secondo me avere un giubbotto di jeans è sempre un'ottima cosa questo qui di questo brand che si chiama Wilfred è un brand anche qui penso che sia canadese o comunque nordamericano però ragazzi ci sono 2850 giubbotti di jeans vi metto delle opzioni sotto in caso foste interessati e questo qui mi piaceva perché è di questo colore light blue non sono una fan dei giubbotti di jeans scuri con un lavaggio scuro ma mi piacciono molto di più questi da loaggio un po' più chiaro niente ragazzi quindi questi erano tutti i miei acquisti spero di essere andata veloce non volevo fare un video lungo come vi ho detto cerco di fare un video all al mese ovviamente se faccio shopping se proprio come vi ho detto mi do la pazza gioia ne vedrete due al mese preferisco sempre farne magari uno o due al mese semplicemente perché non voglio fare video all lunghi 25 minuti che penso che non sareste interessati a vedere ma magari se vedete 5-6 capi in un video e poi 5-6 capi in un altro magari la cosa vi può interessare di più spero che il video vi sia piaciuto se così è stato mettete un mi piace iscrivetevi al canale fatemi sapere nei commenti qual è stato il vostro capo preferito tra quelli che vi ho mostrato niente ragazzi io vi ho detto veramente tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao